Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli, Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro, Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero, Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro, Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero, Lo possiamo. E Gesù disse loro, Il calice che io bevo anche voi lo berrete. E nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro, Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore. E chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Ben ritrovati carissimi amici di Padre Pio TV per un nuovo appuntamento con il Signore dei giorni. La ventinovesima domenica per annum, mentre ci convoca per il rendimento di grazie, ci invita a penetrare con gli occhi della fede il mistero di Cristo, servo obbediente e sofferente. La liturgia della parola allora ci aiuta a comprendere come sia necessaria la strada della prova e della sofferenza per realizzare il progetto di salvezza e di redenzione, come sia necessario percorrere questo cammino per la costruzione del regno. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, dirà il profeta Isaia nella prima lettura, riferendosi al servo obbediente, vedrà una discendenza, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Così Isaia ci prepara alla comprensione del brano del Vangelo, che termina proprio con le parole di Gesù, che dice di essere venuto per dare la propria vita in riscatto per molti. Ma c'è un insegnamento che precede questa rivelazione, un insegnamento che non può passare inosservato. Tutti i chiamati alla vita nuova in Lui, anche noi cristiani di oggi, dobbiamo far tesoro di quanto ci dice Gesù nel Vangelo di questa Domenica. Tutto parte da una richiesta esplicita da parte dei figli di Zevedeo, Giacomo e Giovanni. Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. E Gesù fa capire loro che è un posto riservato a coloro per i quali è stato preparato. Gli altri discepoli si indignarono verso i figli di Zevedeo, forse perché si sentivano già destinatari anche loro di tale posto. Allora Gesù interviene, facendo loro comprendere quale sia il criterio per stabilire certe graduatorie. Guardate cosa accade nel mondo, dice. E' una logica difficile da accettare, perché ci fa apparire, forse fatte, fallimentari dinanzi agli occhi degli uomini e spesso la superbia emerge nel nostro cuore. Vogliamo dimostrare agli altri quanto siamo grandi, quanto siamo capaci, quanto siamo bravi. Vogliamo dimostrare che siamo i migliori, siamo i primi, ma dimentichiamo che Sic Transit, Gloria Mundi, passa, finisce la gloria umana e finiamo col ritrovarci all'ultimo posto. L'esempio per noi è proprio Gesù, il quale, pur essendo Dio, si è fatto uno di noi ed è venuto come uno che serve. Il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. La giornata mondiale missionaria che oggi celebriamo è così un esempio di servizio che la Chiesa universale compie verso le comunità più povere e lontane, rendendo presente il segno di Cristo che continua a servire e a prendersi cura del suo popolo. Preghiamo particolarmente carissimi amici in questa domenica per questo prezioso servizio della Chiesa di Dio, chiamata a far risplendere la parola di verità in ogni angolo del mondo. Pace e bene e buona domenica a tutti. Grazie a tutti.